È stata una giornata fantastica, ma terribile perché è molto dura, strada scivolosa, pavè scivoloso, veramente tantissimo stress. Devo dire soltanto grazie ai miei compagni, a Stana perché veramente hanno corso in modo perfetto, tutti molto vicino a me. È possibile fare un'arrivo, 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 come il comunico, ma una colesata, un'arrivo, un'arrivo, un'arrivo. E la prima volta che veniremo, è un super giorno. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 5 minuti prima di start di 20 minuti, il riempio cominciato, è stato freddo, è stato freddo, e ho andato in un buzio, e questo e questo, ma l'unica è stata la prima linea e resta in un breakaway. Il gap non è mai più di 1,5 minuti, 2 minuti, è tutto, è tutto. E' stato così slippato, il ciclo cross è anche con meno bar, e questo era lo stesso. Io ero molto bene su Pave, ho avuto più buone giorni in la tour, ma ho anche buone giorni in la tour. Ma la selezione della Tour de France, di Astana, avevano ne ritori in buona forma. Alcuni giorni non ero, alcuni giorni non ero, alcuni giorni non ero. Ma in l'ultimo, eravamo una buona squadra. Abbiamo lavorato in la tour 19 giorni per il yellow jersey. Abbiamo credito che con la nostra squadra, e con Vincenzo, come un bravo bicicletta, che abbiamo avuto una possibilità di fare bene con i coppers, comparare con i rivali. La seconda squadra, dove esitiamo, e abbiamo detto in la radio, che il contador è troppo. E' il momento in cui abbiamo preso il hammer, e abbiamo preso in fronte, per aprire il gas, per provare a troppo. Perciò che non ero, non è vero. Grazie a tutti. Perciò che inna, evitare il ragazzo, per me sia un bravo bicicletta, e questo viaggio Vincenzo in fronte I was in a breakaway and I stopped on the side and take a piss and wait for Nibali and bring him to the front and then the last pave section the four last pave section and we were there with three only last bone make the jump One thing in my head I saw Vincenzo in the front and it was a group before there was one thing I must Vincenzo help and bring him to the first group pulling on a flat wind in the head I think five minutes and then we go left and we take the longest part of the couple songs We stay good here me, Jakob, Vincenzo and the GC riders the most of the GC riders was dropped Louis was putting a good pace but nothing nothing crazy Not too fast but not too slow It was perfect for us I do that and Vincenzo was also there and only Lars Bohm can make the jump otherwise we ride with three to the finish Fabian and Tag and they look at each other nobody wants to pull and we are gone and she This is the last set of a Puggestone now and he's got this year and he believes that he's running on the Puggestone he's now taking the way to try the hell out here to an absolutely rapid gas bomb Well this is the final set of Puggestone I am going to go and the St. Louis The American Man is passing over the Puggestone but he's got good energy and he's got a Puggestone on the Puggestone and Lars Bohm now is trying to take off All I am so need 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.